5 4 3 2 1 vai 50 al palo sinistra 5 in accenno destro e sinistro 50 al cartello destra 4 per tornante sinistro 20 sinistra 5 20 destra 3 e subito tornante destro sinistra 3 destra 3 accenno destro per tornante sinistro 50 al verde sinistra 4 in destra 3 20 tornante destro sinistra 3 20 alla casa sinistra 3 in destra 50 accenno destro per sinistra 3 allo specchio 20 destra 3 in tornante sinistro 100 sinistra 5 50 inversione destra 20 sinistra 4 in destra 4 2 tempi in sinistra 3 100 a vista accenno destro per tornante sinistro 30 tornante destro sinistra 3 in accenno destro sinistro e destro occhio e tombini interni 20 sinistra 4 30 30 a rail sinistra 3 100 alle seconde gomme destra 3 in destra 2 in sinistra 3 in sinistra 3 in sinistra 3 in destra 3 in sinistra 3 occhio e tombini interno 100 accenno destro accenno destro per sinistra 3 in sinistra 3 in destra 3 400 a vista 100 al cartello destra 4 20 sinistra 3 50 e destra 4 accenno destro per sinistra 3 20 e sinistra 3 in destra 3 in sinistra 5 100 destra 4 in sinistra 4 per destra 4 in sinistra 3 sudosso 50 e alla rail sinistra 3 2 tempi in destra 3 in sinistra 3 20 sinistra 4 2 tempi e destra 4 in sinistra 4 scende 50 sinistri destra 3 20 e destra 4 in sinistra 5 2 tempi alla casa azzurra sinistra 4 100 sconnessi alle case in versione sinistra 100 alla casa c'è il muo destro e sinistro 50 allo specchio destra 5 50 e al muro sinistra 5 in destra 4 per sinistra 4 e in destra 3 30 e destra 5 100 e al muro sinistra 2 lunga per destra 3 gira 20 sinistra 3 in accenno destro e sinistra 3 50 destri sconnesso e al cartello rovescio destra 4 20 e sinistra 2 e alla casa a destra 3 2 tempi per sinistra 5 lunga 20 e al cartello destra 5 in sinistra 4 per destra 3 in sinistra 3 in destra 3 apre destra 3 apre 100 apre nel rail destra 3 100 dossati al muro sinistra 3 50 dossati fine bravo 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 Grazie a tutti